Cioccolato, panna e soffici bignè. Più di 160 kg di profiterol per vincere il Guinness World Record. Anche questo è il Blue Sea Land. A Mazzara del Vallo i pasticceri coordinati da Giuseppe Lamia all'opera per realizzare uno dei dolci più buoni e gustosi. Materia prima sono dei bignè, tutti i panna, la vaniglia, avvelati singolarmente al cioccolato fondente per fare poi la piramide del classico profiterol. Una squadra di? L'anno scorso eravamo 5 i titolari dell'azienda e poi i collaboratori saremo 10-12 persone. Approfittano che c'è una base di 160 kg che dobbiamo superare, poi vediamo quello che riusciamo a fare. Penso qualcosa in più per superare i bicicletti anche, non so, vediamo.